Salute, te faccio vettura, la sua nascita, la sua nascita, la sua nascita a me, non mi ha bisogno, ma sarvola, la sua nascita, 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 la sua Allora noi abbiamo iniziato con la tamburiata arcaica diciamo voce e tamburo e con la tamburiata alla voce e tamburo chiudiamo e su queste note volevo salutarvi e presentarvi la formazione al QTV e alla voce Mario Patti Alla disarmonica alla voce il professore Felice Putolo e a tamburo e alla voce il dottor Domenico Pacciano medico veterinario Yalla Yalla Domenico Pacciano medico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti